L'epifania, tutte le feste, si porta via. E' questa la frase ricorrente che pronunciamo ogni qualvolta le festività natalizie si avviano alla conclusione. Intanto ieri mattina a Loreto Apotino l'occasione per tanti bambini di fare ancora festa con l'arrivo delle Befane presso il Teatro Super Cinema prima di riprendere la scuola. La Befana dei bimbi 2020, dal titolo Noi guardiamo il mondo, richiamo alla pace nel mondo e alla solidarietà tra i popoli, è stata organizzata come avviene ormai da anni dall'associazione Splendida Loreto E ed anche in questa edizione si avvalsa della collaborazione delle classi quarte dell'istituto comprensivo di Loreto Apotino Tito Acerbo con la messa in scena di recite e canti. La mattinata è iniziata con i saluti istituzionali di rito a cui hanno preso parte il sindaco Gabriele Starinieri, l'amministrazione comunale e il presidente della provincia Antonio Zaffiri, il quale ha tenuto a sottolineare come se estremamente importante non perdere per tutti, non solo per i più piccoli, queste tradizioni nei paesi dell'entroterra. Poi spazio alle bambine e ragazze della ginnastica ritmica con l'esibizione della scuola Ing Art di Catignano. A far divertire i tantissimi bambini presenti in sala anche il mago Vitamina Ciro con tantissimi numeri di giocoleria ed equilibrismo. La chiusura affidata alle Befane, Mirella, Sonia, Emanuela e Davide che dopo aver ballato sul palco hanno tirato fuori dai loro sacchi tante calze, piene di cioccolatine e caramelle. Dispiace non aver visto quest'anno la discesa della Befane in teleferica in piazza nel pomeriggio, ma Fulvio D'Addazio, organizzatore dell'evento insieme a Rosanna Buccella, tiene a precisare che farà di tutto per riportare anche questo momento nell'edizione 2021.